Spostiamo il focus perché abbiamo un punto di vista molto particolare con Laura Premoli a cui passo la parola. Non siamo nel mondo dell'automotive ma nel mondo pharma, però noi oggi parliamo di innovazione in effetti, guardando sempre alla sostenibilità. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito, nel mio caso è la prima volta, quindi grazie ed è molto interessante ascoltarvi, e devo dire che sto imparando molto anche nel mondo dell'automotive, che da donna posso sempre apprendere senza fare discorsi di genere, bisogna stare attenti. Allora, mondo healthcare, io rappresento effettivamente il mondo pharma e ascoltandovi abbiamo degli aspetti che ci accomunano con il mondo dell'automotive e soprattutto il concetto che è un'industria molto autoreferenziale, anche il mondo farmaceutico, quindi siamo anche noi in un mondo di grandissima trasformazione e avevamo due strade, o non ascoltare e andare per la nostra strada, oppure cercare di metterci in discussione e cercare di far integrare quello che è la digitalizzazione, l'innovazione e la trasformazione tecnologica anche nel mondo farmaceutico. Così stiamo facendo, almeno lo sta facendo la mia azienda, Grunental, che è un'azienda che è da più di 45 anni nel paese Italia e che si occupa di dolore, che detto così non è molto bello, però certamente la nostra missione è quella di fare in modo che le persone vivano la propria malattia senza dolore. Quindi una digitalizzazione che abbiamo incorporato e che sta trasformando la nostra quotidianità. Faccio solo alcuni degli esempi che magari possono essere di stimolo anche in realtà differenti dalla nostra. Noi stiamo inglobando all'interno di quello che è la digitalizzazione una quantità di dati enormi, anche di modelli e stiamo approcciando il mondo competitivo con proprio modelli completamente differenti rispetto a quelli di banalmente tre anni fa. Noi abbiamo cambiato completamente il nostro modo di comunicare, perché ormai il nostro modo di comunicare è una comunicazione ibrida, viene chiamata, dove viene orchestrata dall'informatore, ma dove c'è la comunicazione face to face, ma la comunicazione digitale omnicanale, non multicanale. Quindi una trasformazione importante che ha coinvolto tutta l'organizzazione e per fare questo abbiamo dovuto proprio fare un percorso che stiamo ancora facendo di Change Mindset. Anche questo è un luogo comune, Change Mindset, ne parlano tanti, tutti parliamo con queste parole inglesi. Però fondamentalmente che cosa ha portato? Ha portato a quello di trasformare le persone che lavorano all'interno dell'organizzazione. Perché se noi non facciamo in modo che aumentino le skills e capiamo soprattutto quali sono le skills che sono necessarie per lavorare nella nuova digitalizzazione, siamo fermi e perdiamo competitività. Per fare questo abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama Smartive Map, forse qualcuno di voi lo conosce, viene utilizzato anche in tutti gli altri mondi, non solo in quello farmaceutico, che praticamente mappa la situazione di ogni persona all'interno dell'organizzazione su due parametri fondamentali. Uno legato alle capacità di digitalizzazione, cioè le conoscenze, e l'altro invece è la propensione al cambiamento e all'inclusione del cambiamento della digitalizzazione. Ecco, questo progetto è un progetto che abbiamo iniziato tre anni fa, monitoriamo ogni anno e questo ci permette di vedere l'evoluzione all'interno dell'organizzazione, ma soprattutto ci permette di capire quali sono le necessità delle persone che lavorano all'interno dell'organizzazione comparate con le necessità che sono esterne e quindi possiamo fare dei percorsi di formazioni, di training assolutamente mirati. E abbiamo inglobato anche tutto ciò che è l'intelligenza artificiale generativa, questa è la cosa più recente, ma ci permette fondamentalmente, ho una serie di esempi però magari non vi tedio su questi perché sono molto tecnici, ma la cosa interessante è che grazie all'intelligenza artificiale noi siamo riusciti ad ottimizzare tante attività e questo è sostenibile, vi chiederete perché, è sostenibile perché riusciamo a ottimizzare ulteriormente le nostre risorse e andare ad investirli nella ricerca e nello sviluppo, ricerca e sviluppo per avere nuovi farmaci, per risolvere dei need e quant'altro, quindi questo è un po' il nostro mondo e nel nostro mondo c'è anche tutta la parte degli stabilimenti, nel mondo abbiamo cinque stabilimenti, uno dei più grandi è Origio, che è qua in Italia, vicino a Milano per chi non lo conosce, e soprattutto per la parte di plant, di stabilimento, ci sono delle azioni concrete sulla sostenibilità legate all'attività quotidiana di questi stabilimenti, legati alla decarbonizzazione, legati all'utilizzo dell'energia rinnovabile, quindi abbiamo dei KPI mensili per monitorare appunto queste attività, tutto in ottica di cercare di equilibrare ciò che è la sostenibilità e ciò che è il profitto aziendale, perché la grande sfida, forse dopo parleremo di sfide, però è proprio questo per noi, ma immagino per la maggior parte delle aziende, quello di equilibrare molto bene ciò che è veramente sostenibilità ambiente, pianeta e il profitto, quindi sono solo degli stimoli in una realtà completamente diversa dalla vostra, che mi piaceva condividere e poi se volete possiamo approfondire. Grazie. Grazie, grazie tante a Laura Premoli, grazie tante.